Ogni anno usiamo circa 65 milioni di animali per l'alimentazione a mano. Produrre l'alimentazione in questo modo è un modo che ha molte conseguenze dal punto di vista del benessere animale, del cambiamento climatico e dell'ambiente e anche in altri settori. Quindi bisogna pensare a delle alternative per il futuro, per questo si pensano a dei sostituti della carne, delle uova e del latte, i prodotti derivati dall'acqua. Il suo progetto che si chiama Future Food cercano di presentare e studiare tutte queste alternative attualmente esistenti per recisi possibili da utilizzare in futuro. E altre possibilità che ci saranno in futuro come ad esempio la coltivazione e la produzione di carne in litro e in laboratorio. E anche quello che offrono le tecnologie attuali. Io parto dalla storia presente alimentare, sono uno storico, e dalla nozione di catastrofe che è venuta emergendo come una delle ipotesi del futuro prossimo o lontano. Nozione di catastrofe che è sostanziata da tutta una serie di eventi, piccoli e grandi. È ovvio che si parla oggigiorno di catastrofi ambientali, climatiche, si parla di problemi di scomparsa di interi patrimoni naturali e via dicendo. Io parto da questi concetti e sviluppo quella che è la conflittualità che si è alimentata e si è espressa a partire da questi concetti originari. Conflittualità per un mondo diverso, migliore per gli uni con la scienza e l'industria alimentare, migliore per gli altri senza la scienza e senza l'industria alimentare. Questi sono i concetti elementari che vengono sviluppati in una trama che è complessa, ovviamente, perché è la trama che oggigiorno ci porta a preferire le cucine del passato alle cucine del futuro o viceversa, ci porta ad alimentarci in un supermercato come l'unico luogo di approvvigiamento sicuro e costante. Nel 2050 noi saremo 9 miliardi di persone che dovremo ovviamente alimentare. Questo richiederà una sfida all'agricoltura molto importante e l'agricoltura del futuro dovrà quindi produrre più cibo tutelando l'ambiente, utilizzando la chimica in modo sostenibile, avvalendosi dell'innovazione tecnologica che significa miglioramento genetico delle culture senza utilizzo degli organismi geneticamente modificati, perché oggi esiste un forte movimento dei cittadini contro l'introduzione degli OGM in agricoltura e quindi bisogna tener conto anche dell'esigenza dei paesi europei che per la maggior parte hanno rifiutato come l'Italia l'introduzione degli OGM. Ma questo significa anche tecniche agronomiche mirate a produrre alimenti inquinando di meno, ma allo stesso tempo garantendo elevati standard di sicurezza alimentare sotto il profilo genico-sanitario rispetto del benessere animale, valorizzazione delle produzioni locali e possibilità di rispondere ad una domanda diversificata che viene da parte dei paesi ad economia avanzata e dei paesi in via di sviluppo che hanno esigenze profondamente diverse. La sfida quindi dell'agricoltura è quella di rispondere ad un mercato di consumatori estremamente diversificato dove a posto sia il prodotto fortemente legato al territorio, ma anche l'agricoltura biologica, ma anche l'agricoltura intensiva se così la vogliamo chiamare, perché bisogna rispondere ad una pluralità di esigenze diverse. Tutto questo, come dicevo prima, richiede ovviamente ricerca, tecnologia, innovazione per l'agricoltura e quindi anche una maggiore attenzione da parte di tutti gli Stati ad investire in un settore importante per la qualità della vita e come diceva un anonimo del Cinquecento di tutte le cose della vita, ne conosco solo una veramente importante che è mangiare, tutte le altre vengono dopo.